Abbiamo pensato di invitarvi a questa conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo liceo scientifico delle scienze applicate con potenziamento biomedico, polvo e curvatura biomedica. Ringrazio prima di tutti il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Marco Iotti, veramente grazie. Più medici domani abbiamo preparati e soprattutto fondano la loro ossetta su quello che è i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno il Servizio Sanitario Nazionale compie parate 5 anni. Partizziamo, possiamo dire così, il liceo scientifico delle scienze applicate con potenziamento biomedico, a curvatura biomedica a partire proprio in particolar modo già dall'inizio, ma in particolar modo poi dal terzo anno. Ci sarà questa grande possibilità ovviamente di implementazione delle materie appunto che preparano poi alle professioni sanitarie.